CERCA QUALCUNO? SIGNORE! Un uomo armato ha fatto irruzione in un edificio. Che hai trovato? Il nostro uomo. Una decina di anni fa ha compiuto una rapina in banca. Dopo la rapina gli è stato teso un agguato da un'altra banda. Qualcuno li ha incastrati e gli ha ucciso il fratello. Sorridi alla telecamera. Vi ammazzerò tutti. Si è rifiutato di morire. E sta dando la caccia ai membri della banda. Sorridi alla telecamera. Ho un nuovo cliente per te. So che ti piacciono le sfide. Pioggia di proiettili, agenti indemoniati. Segui la corrente, amore. È veloce come te. È più veloce. Che c'è? Va tutto bene? Sto facendo due chiacchiere. Con un vecchio amico. Dio non può salvarti da me. Non ha paura. Non ha esitazione. Non ha niente. Adesso finiscila. Perché se ammazzi lui sei morto. Fa quello che devi fare. Ma hai preso una strada lunga e oscura. No ha no. Non ha non. Grazie per la visione!